Cioè, quando colpisci un avversario con una skill che stunna, eccetera, gli fai del danno bonus e quella viene ridotta al CD. Stato se il forco vuole passiva cooldown e intendo glitch, soprattutto vuole anche per le cose tipo banshee. Penso sia intended. No, con le banshee no, solo con le attive. Perché alla fine è una semiattiva, non è proprio una passiva. Quindi io penso sia abbastanza intended perché, cioè, è da un po' che c'è sta roba. Debo, se ci ho fatto anche un video, penso che la Riot l'abbia vista. È una roba da poco che potrebbero fixare, penso, se gli interessasse. E penso sia intended. La zona è riduce? No, vabbè, quella è un'attiva, mate. È diverso. Perché quella della Sunfire non è proprio... non puoi scegliere tu di attivarla. La attivi con... con un'azione che fai. È diverso. Ancora contro Fravola? Ah, è vero, è vero. Siamo contro Fravola. Di nuovo il mio Sion. Di nuovo il mio Sion, Fravola. Di nuovo il mio Sion. Cioè, via contro un buon trick quiz, mi sa. Sì. Allora c'è un fine matchup di Sandra. Il Gino avversato non è mica quello del drama immessato ieri. Ah, è Don Fore, sì, è lui, è lui. Allora c'è un buon trick quiz, mi sa. No, non è Caps, non penso che Caps abbia 700.000 punti su... su un account con Fizz. Scusa che si tolgo ai seguiti, ma ho chiuso con sto gioco che non voglio sapere. Si sta da per sempre, vinco un impegno e poi prendere con i miei tossi. Ah, vabbè, mente ci sta. Anch'io stavo quasi per quittare. Mi spiace, Flavio. Mari, ogni tanto, metti una volta al mese, passa, e chiedi se la situazione è migliorata. E poi se vuoi ricominci a giocare, Flavio. Passa una volta al mese. E ti dico onestamente se la situazione è migliorata, se hanno fatto qualcosa, perché dovrebbero fare qualcosa per sta roba per la tossicità. Io ti dirò se funziona o meno. Ah, vabbè, Flavio, magari... cioè, io ti capisco, però magari se... se migliora, se la fixano sta cosa. Tu ti dico, passa una volta al mese, e ti dico se è migliorata o meno. Alla fine del game me lo chiedi. È migliorata la situazione del game? Lo tirerò. Sì, no, forse. Gnaggia, ci ho messato... cioè, non l'ho hittato a lui, quello l'ho perdo. No, forse no, non l'ho perdo, perché mi ha fatto sta Q. La Q miraculosa... Eh, però perdo quest'altra. Ah, per Dinci, pacco. Accidenti. Una via livello 3 ma potevo aspettare. Qua probabilmente ritorna è qua. Non è grave per me, ritorno. Non perdo quasi niente, si esco. Questo è un problema, invece, che... Cioè, non stanno in superiorità numerica, perché il nostro jungle è back, però... Che muoiono con... Con V che è top e che mi ha appena cancato per la seconda volta. È un po' grave. Ma che bravi ragazzi. Dopotutto... Non erano mica in counter match-up. Eh, l'hanno un po' fixata, l'hanno un po' recuperata. Non erano un po' di più. andiamo back qui posso chiudermi la flask lui c'ha il tp per tornare in lane pure si può anche usare tutti i biscotti ma posso illusare il tp e basta sto comunque a head di exp ve l'ho detto il gunk ha fatto prima non ci ha fatto più tanto male era meglio evitare morirci lì ma nemmeno potevo giocare meglio se slevavo via era un po' meglio cavo via basta per distruggermi tutto lo squadro non l'ho detto non l'ho detto non l'ho detto beh buono molto safe lui rispetta molto quel gunk l'ha fatto malissimo anche se non l'ha preso niente né flash né summoners non l'ho detto non l'ho detto ma abbiamo stoppato in aria allora 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 dov'è il gp è di qua non l'ho detto non l'ho detto non mi aspettavo il gp ci saluto è bad mea culpa mea culpa me lo aspettavo di qua ma non di qua ah mutiamo la di car è stato un flash non so di chi qua possiamo pushare e prendere una plate è stato un flash Dovevo l'ulta subito, volevo ottenermelo Pensavo di riuscire a salvarmi senza usarlo Sono stato greedy as fuck, dovevo solo l'ulta via e ero salvo Oh my god, my bad, my bad, my bad Adesso ho pure usato il tp qui Oh my god Oh my god Sì, 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 sì. No, ci stavo. Uno per uno. Abbiamo salvato la torre. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 accidenti il cannone perso andiamo a andare back dai c'è un sacco di soldi da spendere andiamo back andiamo back chiudo questa quasi quasi ma si la chiudiamo continua a skip usciare yeee abbiamo pure una buona soul per me per me enorme ok ok mi spiace ma mi ha preso il blue oh mate non mi puoi morire così però da pizza senza la ulti poi ok ma sai che ti devo push anche alla prossima che si è visto si è visto intanto sono pronto per il drake tanto sono pronto per il drake non 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 devo push anche alla wave del lì devo toglierla non Che mi faccio? Che mi faccio? Qualizione di cure sta andando full title In realtà se mi faccio la Deadman qua Non giocano più, cioè non riescono più a tirarmi giù La stomplet scusate 28 HP per pochissimo Quando ho tutti questi HP Di solito prendi lo stopwatch prima Per poterlo usare, ma quando ho tutti questi HP Sono più importanti le resistenze Cioè ho 3600 HP Le resistenze hanno più value qui Per poterlo usare Per poterlo usare, ma quando ho giocato Per poterlo usare, ma quando ho rispinto Per poter lo spiace Per poterlo usare, ma quando ho rispinto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.